ciao a tutti oggi prepareremo lo sciroppo per la tosse il tempo di preparazione della ricetta è di 75 minuti circa gli ingredienti sono miele millefiori limoni non trattati zenzero e acqua diamo via la ricetta iniziamo a mettere nel boccale i limoni che avremo già tagliati e lasciati con la buccia lo zenzero e l'acqua andiamo a cuocere il tutto per 70 minuti 80 gradi velocità soft adesso andiamo ad aggiungere il miele e lo andiamo ad amalgamare chiudiamo col coperchio senza il misurino per due minuti senza temperatura velocità soft il nostro sciroppo è pronto adesso andremo a filtrarlo con un colino a maglie strette e lo metteremo in una bottiglia sciroppo per la tosse grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti